vediamo come si impostano i trattini su una traccia di una forma che abbiamo creato cominciamo col creare una forma e useremo un'ellisse ok e andiamo a centrarla a questo punto all'interno di ellisse abbiamo le opzioni della nostra traccia e qui abbiamo le opzioni dei trattini, in questo momento non ce n'è per cui noi aggiungiamo un trattino ora i trattini hanno diverse opzioni tra cui possiamo scegliere tra troncata che è come vediamo adesso quindi sostanzialmente sono dei rettangolini oppure arrotondata, generalmente arrotondata è più piacevole a questo punto abbiamo diverse opzioni tra cui la dimensione del trattino per cui possiamo scegliere una dimensione per i nostri trattini abbiamo uno scostamento ovvero un punto di inizio che io in questo momento lascio a zero quando andiamo ad aggiungere un nuovo trattino è come se inizialmente venisse fagocitato dal trattino già esistente per cui bisogna trovare il punto in cui i trattini sono tutti uguali qui comincia a nascerne uno nuovo qui invece dovrebbero essere tutti uguali ok a questo punto se io clicco nuovamente più mi viene creato lo spazio questo mi permette di gestire lo spazio che c'è fra i trattini e di nuovo ho lo stesso discorso mi fermo a un certo punto se io clicco di nuovo più mi viene fuori tratteggio 2 che in realtà sostanzialmente è un altro trattino questa volta io gli do spazio del tratteggio gli dico zero così viene fuori un punto a questo punto lo spazio lo diminuisco diminuisco anche un po' il primo trattino ci gioco un pochino finché non otteniamo qualcosa di gradevole ok ora questa forma può essere animata tramite lo scostamento o tramite la rotazione per cui io potrei per esempio mettere un primo keyframe alla rotazione a 0 secondi a 0 e potrei andare a 2 secondi e dirgli che deve fare un giro completo a questo punto il risultato che abbiamo ottenuto è questo ok ok grazie a tutti